... Innanzitutto, l'oggetto di questo archivio sono i documenti dell'opera, del teatro d'opera. Uno spettacolo operistico produce queste diverse tipologie di materiali. Si incomincia, per esempio, dalle lettere che intercorrono tra musicista, librettista, editore. Si passa al libretto d'opera, cioè il testo letterario dell'opera, che di solito viene stampato in prossimità della rappresentazione. C'è lo spartito e partitura, cioè tutto il testo musicale. E questi sono i documenti del testo opera, inteso come partitura e testo letterario. Per la realizzazione dello spettacolo ci sono i disegni preparatori per le scenografie, i cosiddetti bozzetti, i figurini, i disegni dei costumi. Anche questi sono disegni preparatori per realizzare i costumi. Poi, nell'imminenza dello spettacolo, si prepara il manifesto. Nel corso dello spettacolo si realizzano tutte le foto di scena che documentano come è stato realizzato lo spettacolo. Questa è una tipologia di documento particolarissima. Si chiama in italiano disposizioni sceniche. Vale a dire, è una sorta di quaderno di regia. Quindi durante le prove, di solito è l'editore, ricordi a quest'epoca, che assiste a tutte le prove e annota tutti i movimenti scenici previsti. Li annota e li stampa in questo piccolo volumetto con lo scopo di consentire a tutti i teatri che nelle successive riprese allestiranno quello spettacolo di avere una guida precisa di come lo spettacolo va realizzato. Sono volumetti a stampa prevalentemente dal secondo a 800 che sono sostanzialmente degli appunti di messa in scena, come si mette in scena lo spettacolo. Poi come esiti possibili, una registrazione audio, una registrazione video. Il senso di questa slide è sostanzialmente questo, cioè un unico evento, uno spettacolo, che viene rappresentato in un determinato giorno, in un determinato momento, produce documenti di tipologia diversa. Documenti cartacei a stampa e manoscritti, testi musicali a stampa e manoscritti, disegni, foto, materiale audio. Questo è lo scopo di questa slide. Un unico evento produce oggetti di tipologia diversa. Qual è la consuetudine nella conservazione e trattamento documentale di questi materiali? Si ragiona sulla tipologia dei materiali e quindi vengono conservati in biblioteca i materiali librari e audio-video, in archivio tutte le lettere e tutta la documentazione archivistica relativa ad un'attività teatrale, oppure in un museo dove si conservano i disegni. Quindi un unico evento viene frammentato e trattato in relazione alla tipologia dei materiali. Questa è la consuetudine. Anche l'organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali ha le diverse direzioni generali per competenza di materiale tipologico. Materiale librario, c'è una direzione generale, è tutta una filiera di biblioteche. Direzione generale degli archivi e la filiera degli archivi. I musei, direzione generale, filiera dei vari musei. Quindi questa è la sorte che tocca alla documentazione del teatro e dello spettacolo peristico. Finire in contenitori diversi con metodi di descrizione diversi. È evidente che questa situazione determina una difficoltà per l'utente. Cioè l'utente per ricostruire la documentazione relativa a un singolo spettacolo deve percorrere queste diverse strade. E compete all'utente ricomporre ciò che la tradizione documentale ha invece separato. Questo è lo stato attuale delle cose. Se consultate internet culturale potete avere un esempio di questa modalità operativa. Internet culturale negli ultimi vent'anni ha prodotto archivi di natura diversa e sistemi catalografici specifici per ciascuna tipologia. Quindi quello che in gergo si dice applicazioni verticali. ho un problema lo risolvo in maniera puntuale e precisa in relazione alle caratteristiche degli oggetti di quel particolare intervento. Poi internet culturale cosa fa? È un portale attraverso il quale è possibile accedere alle diverse collezioni ma si accede identificando la collezione quindi identificando la modalità specifica di trattamento di quella informazione. Vi aiuta a cercarle con una serie di indici ma alla fine il punto di arrivo è la consultazione della singola collezione. Anche in questo caso l'utente deve imparare a conoscere i metodi attraverso i quali è stato realizzato il singolo progetto e quindi conoscere le modalità di consultazione per accedere a quei materiali. C'è anche un campo di ricerca full text ma non avendo sistemi di page rank il risultato di questi siti spesso non consente all'utente di rintracciare in maniera efficace i documenti. Questo è lo stato delle cose ad oggi. FRBR IFLA sono cose a voi note? No. IFLA è International Federation of Library Association and Institutions cioè l'associazione internazionale che tiene assieme tutte le biblioteche del mondo. è un'associazione che svolge dei compiti di indirizzo quali sono i metodi più opportuni per il trattamento dell'informazione bibliografica. All'inizio degli anni 90 questa istituzione ha insediato una commissione affidando questo compito identificare i requisiti funzionali della scheda bibliografica. quindi che cosa fa un bibliotecario nel momento in cui cataloga un oggetto bibliografico. Nel documento finale 1998 viene pubblicato il risultato di questa attività e nella premessa io ho ripreso parti della premessa fa un po' la storia qual è il background di questa attività che ha portato alla produzione di questi functional requirements for bibliografic records e fa un po' la storia dell'associazione in relazione al trattamento dell'informazione documentale. In 1961 è stato deciso che è necessario condividere i principi catalografici. Nel 69 è necessario condividere i metodi di descrizione e questi metodi poi sono confluiti nelle ISBD già nel 1971 e poi l'ultima versione nel 2007 quindi per condividere il patrimonio informativo dobbiamo imparare a descrivere in maniera uniforme e omogenea le collezioni che ciascuna biblioteca possiede perché in questo modo si creano le condizioni per condividere le informazioni prodotte. Nel documento 1998 FRBR viene fatta la storia ma viene anche introdotto una nuova prospettiva cioè fino ad ora abbiamo ragionato su come si compila una buona descrizione bibliografica all'inizio del 90 si dice beh però dobbiamo anche tener conto del punto di vista dell'utente quindi che cosa cerca l'utente e come dobbiamo strutturare la scheda catalografica per venire incontro alle esigenze dell'utente è cambiato anche lo scenario perché i documenti informativi non sono più soltanto libri ma sono documenti anche di altra natura perché appunto da ormai alcuni anni la presenza invasiva della tecnologia informatica rende disponibili documenti anche in formato non cartaceo quindi si è modificato lo scenario gli oggetti dei quali un bibliotecario si deve occupare non sono più soltanto oggetti materiali di carta ma anche informazioni e documenti disponibili in altri formati ma soprattutto bisogna tener conto nella identificazione dei requisiti funzionali del punto di vista dell'utente dal punto di vista biblioteconomico questo documento equivale a una rivoluzione copernicana cioè prima si ragionava in termini di esperti di dominio e come si compila correttamente in maniera efficiente una scheda adesso il punto di riferimento è l'utente come facciamo a intercettare correttamente le richieste e le esigenze dell'utente che accede attraverso i nostri strumenti catalografici a collezioni come è possibile quindi come bisogna ragionare per intercettare correttamente le richieste dell'utente è necessario concettualizzare l'attività di descrizione bibliografica e quindi il documento FRBR presenta il modello concettuale della scheda bibliografica nel momento in cui cataloghiamo un oggetto bibliografico compiamo queste diverse operazioni innanzitutto identifichiamo una entità di livello più alto che viene definita work e questa è la definizione distinct intellectual or artistic creation la divina commedia di Dante al di là di qualunque suo aspetto materiale soltanto come prodotto dell'ingegno questo è la prima entità questa entità si realizza in una espressione expression quindi expression is the realization of a work che significa la divina commedia noi la leggiamo attraverso edizioni diverse Pasquini o qualunque altro quindi ciascuna di queste divine commedie è diversa dall'altra sebbene è sempre la divina commedia di Dante ma la conosciamo attraverso diverse expression ciascuna realizzazione di un work dà luogo ad un expression ma qua siamo ancora a livello di prodotto intellettuale del lavoro che hanno fatto gli editori della divina commedia nelle diverse epoche per poter leggere la divina commedia nell'edizione di un particolare editore editor ho bisogno di produrre fisicamente un oggetto una edizione e quindi la terza entità manifestation is the physical embodiment of expression of work l'ultima entità is item cioè il singolo esemplare queste sono le quattro entità del modello FRBR che ripeto identificano i requisiti funzionali della scheda bibliografica dal punto di vista di chi appunto si avvicina anche per la prima volta a questo tipo di formalizzazione di un'attività bibliografica credo sia importante puntualizzare la natura di queste diverse entità quindi si distingue nella reidentificazione dei requisiti funzionali il livello concettuale il livello immateriale delle prime due entità e rispetto invece al livello materiale dell'entità manifestation e item perché è importante da mio punto di vista evidenziare questa distinzione perché in questo modo si distinguono le attività connesse alla produzione di informazione nelle prime due entità sono attività che ricadono in maniera completa nella responsabilità di chi produce informazione storica quindi produzione di repertori cioè elenchi di opere quelle che noi leggiamo sui dizionari consultiamo un dizionario per conoscere la produzione di un autore ma nell'elencazione delle opere di un autore non c'è nessun riferimento ad oggetti materiali al secondo livello expression soprattutto in una prospettiva di arti performative come il teatro d'opera significa occuparsi della produzione in teatro degli spettacoli anche questo è un'attività che compete agli storici predisporre cronologie degli spettacoli teatrali documentare l'attività di una singola istituzione teatrale anche questa è un'attività di storici che usano evidentemente delle fonti ma come esito finale è la produzione di dati storici il bibliotecario ha un'altra prospettiva il bibliotecario parte dal basso dall'esemplare e percorre sostanzialmente a ritroso questa gerarchia di entità perché il bibliotecario ha un oggetto materiale della quale deve esplicitare i contenuti ma questa distinzione di entità materiale e materiale identifica appunto attività distinte che però possono collaborare per produrre un'informazione utile quindi lo storico fa il suo mestiere sulle due entità superiori e il bibliotecario può tranquillamente usare le informazioni storiche disponibili legandole agli oggetti materiali posseduti nella propria collezione esempio di frbr quindi hotello work is created by i due autori librettista boito e il musicista verdi questo è l'opera intellettuale la produzione artistica se l'hotello viene rappresentato in un teatro passiamo al livello di expression quindi is realized by il regista Zeffirelli il direttore d'orchestra i cantanti Domingo Freni e tutti gli altri lo scenografo e tutto il resto anche questo è la realizzazione una particolare realizzazione del work hotello se poi di questa particolare expression produco anche una registrazione siamo a livello di manifestation quindi c'è un editore una casa discografica is master voice o chiunque altro decca eccetera e poi in casa o in biblioteca conservo il singolo disco di quella edizione questo è una esemplificazione del modello concettuale che vi ho appena descritto FRBR il modello concettuale è evidente che ha una struttura gerarchica c'è una singola work che dà luogo a tante expression di tipo diverse può essere una performance può essere una registrazione può essere una edizione e così via tante edizioni ciascuna di queste expression può dar luogo a oggetti di tipo diverso la stessa performance può dar luogo ad un audio a un video e così via manifesti foto di scena e così via a seconda della tipologia della manifestation gli item possono essere uno a uno nel tipo per esempio il singolo disegno è un disegno non ci sono più copie oppure nel tipo di audio o n copie quelle che io metto sul mercato quindi ci può essere questa diversa relazione ma la cosa importante è capire la gerarchia la struttura gerarchica del modello concettuale FRBR questa è soltanto una esemplificazione molto semplice di una realtà invece in verità più complessa soltanto una piccola proiezione della complessità un work in verità può essere figlio di work anteriori per esempio la gerusalemme liberata del tasso è la fonte primaria di molte opere dal quale sono state ricavate i testi letterari quindi il testo letterario libretto dell'opera utilizza come fonte primaria la gerusalemme liberata in una sua parte e per come è la tradizione dello spettacolo operistico il librettista può avere attinto a fonti primarie diverse quindi possono essere più le fonti primarie dalle quali è stato ricavato il libretto da un singolo libretto possono derivare ulteriori libretti quindi c'è un ulteriore legame possibile tra i libretti ricavati dal libretto nel quale stiamo ragionando e così via però l'importante credo sia tenere a mente questa struttura gerarchica work expression manifestation item come il punto di partenza dell'archivio è diverse tipologie di materiali sebbene riferiti ad un evento culturale ben preciso quindi come si fa a tenere assieme l'informazione documentale di oggetti di natura diversa che per tradizione descriviamo in modo diverso ma come facciamo a tenerli assieme quindi il modello FRBR ci è sembrato quello efficace per svolgere questo compito quindi questo è il modello FRBR questo è l'archivio che abbiamo realizzato quindi abbiamo realizzato dei contenitori che ci consentono di produrre un elenco di work un elenco di opere e lo abbiamo definito repertorio quindi in questo primo contenitore abbiamo quello che dicevo il lavoro di un dizionario un elenco ordinato con tutti gli elementi che identificano un work l'autore il titolo l'elenco dei personaggi il testo eventualmente se uno volesse secondo entità expression per l'archivio significa aver allestito la cronologia degli spettacoli cioè tutte le realizzazioni di una determinata opera questo è il secondo contenitore anche questo ripeto è un contenitore di informazioni storiche sulla rappresentazione in teatro di tutto il repertorio operistico terzo livello andiamo sugli oggetti che testimoniano la produzione operistica e qui abbiamo dovuto fare una selezione di materiali per le dimensioni che la documentazione dello spettacolo operistico ha e abbiamo selezionato una sola tipologia di materiali ma il sistema che abbiamo elaborato non esclude la possibilità che si possano descrivere tutte le tipologie di materiali che vi ho presentato all'inizio ne abbiamo identificata una sola il libretto e tra un momento vi spiegherò perché quindi l'archivio è un archivio del repertorio operistico è un archivio degli spettacoli teatrali quindi contiene informazioni storiche sul repertorio e sulla fortuna dello spettacolo operistico e per la parte documentale soltanto una tipologia di fonti i libretti d'opera cioè il testo letterario a stampa con tutti gli esemplari che abbiamo intercettato e queste fonti per una parte le abbiamo digitalizzate cioè abbiamo identificato alcune collezioni importanti presenti in questa regione la Biblioteca della Musica la Biblioteca Estenza di Modena la Biblioteca Universitaria di Bologna che conservano collezioni importanti di libretti d'opera le abbiamo digitalizzate sono attività ormai concluse siamo arrivati più o meno a 14.000 libretti riprodotti integralmente ma in questo contenitore ci sono tutti i riferimenti a tutte le edizioni digitali disponibili online e si arriva a 58.000 quindi abbiamo rintracciato 44.000 e passa edizioni riprodotte integralmente in formato digitale disponibili online liberamente a questo punto il repertorio è completo la cronologia lo è soltanto in parte il censimento delle fonti librettistiche fino all'anno 1860 è pressoché completo si parla di 51.000 edizioni rintracciate questo è l'archivio come è fatto un libretto e quindi perché abbiamo scelto il libretto il libretto è una fonte che contiene il testo letterario ma contiene una ricca quantità di informazioni storiche sull'opera e sul spettacolo realizzato quindi voi trovate il titolo dell'opera il genere il teatro e la data nella quale è stato rappresentata indicazioni sul copista ovviamente le informazioni editoriali il luogo editore anno ci può essere una piccola decorazione ci può essere un testo dove si spiegano alcune cose sull'opera ma soprattutto si ha un elenco completo dei personaggi con un'eventuale didascalia relativa al personaggio figlia di erede di tiranno di eccetera figlia sconosciuta eccetera tutte queste informazioni che ci tratteggiano in maniera proprio essenziale il profilo del personaggio ci dà indicazioni degli interpreti i cantanti ci descrive le mutazioni sceniche cioè che cosa lo spettatore vedrà sul palcoscenico di solito ci sono due o tre mutazioni sceniche per atto e sono tutte descritte se ci sono stati dei balli ci danno informazioni anche sui balli rappresentati e poi il testo letterario completo quindi per questa ragione abbiamo scelto i libretti proprio per la quantità di informazioni storiche che ci consentono ci hanno consentito di riempire in maniera sostanziosa i due contenitori di livello superiore repertorio e cronologie quindi abbiamo adesso una base informativa direi di una buona completezza per la parte storica repertorio e cronologie e per le fonti ripeto ritengo che sia sostanzialmente concluso il censimento delle fonti l'archivio è consultabile online a questo l'indirizzo ed è consultabile attraverso tre maschere di ricerca per ciascuno dei tre contenitori questo è il dettaglio delle voci utili per inserire chiavi di ricerca titolo autore responsabilità genere lingue personaggio qualifico del personaggio quadroscenico eccetera per il singolo evento questo altro elenco di campi di ricerca per darvi l'idea del dettaglio della descrizione questo per le fonti i libretti questi tre contenitori sono navigabili tra di loro cioè io posso entrare e vedere la scheda dell'opera però nella scheda dell'opera c'è l'elenco delle rappresentazioni e quindi posso andare a vedere la scheda descrittiva dell'evento oppure attraverso l'elenco del libretto della scheda descrittiva del libretto se sono entrato con la maschera di ricerca dell'evento posso consultare la scheda descrittiva dell'opera e posso consultare la scheda del libretto collegata a quello spettacolo se sono entrato dal libretto siccome il libretto contiene un elenco analitico del programma dello spettacolo posso accedere all'opera e posso accedere all'evento quindi si crea una navigazione circolare tra le tre maschere le tre maschere sono tra di loro collegate cioè i tre contenitori sono tra di loro collegati in questo modo quindi è possibile tenere assieme tutta la tipologia di documenti relativi al teatro d'opera quindi qui posso aggiungere oltre che libretti di altri tipi di documenti e inseriti in questo contesto di consultazione questi sono i numeri dell'archivio solo per informazioni dovrei aver finito la mia parte prego so i would switch in english otherwise if you have if you prefer i may speak in italian let me know english ok so you will apologize my far from perfect english please so corago falls in lod what does it means i would try to introduce you what is lod or at least what it is from our perspective what are the good reasons we found to fall to let corago fall in lod and the way we have done this period to let corago going toward lod perspective what the transposition process is and what we mean for transposition and what has been the activity to link corago with external sources then we have to ask ourselves if this work was worth it and some conclusion first of all i would like to introduce you some basic aspects about semantic web i don't know i think you ever heard about semantic web yes no what is it you know okay great of course i'm not even making a short introduction i just would like to suggest the switch that semantic web is proposing from the i would say traditional internet and web for now internet is a web of document it means that we have different html documents with different contents being linked together in order to understand what this link means we have to understand the document itself otherwise there's no characterization no typing of this relationship between documents and of course human beings are very able to understand and to take leverage of this link but if we want machines to be able to perform more useful work on these documents and this link we have to make some improvements or at least to start to characterize to specify to typify these links between documents and to describe the contents of the documents in a more atomic way the objective is to move from a web of documents to a web of data data that we may say that will be intelligible to machines or at least machine would be able to manage better in a perspective of a link data we also are moving towards a different set of technologies such as RDF SPERQL OLE and other technologies being defined by the V3C consortium but what is LOD LOD practically here you can see some experts experts from Tim Berners-Lee conference in 2009 he was suggesting that in order to let machines to be able to understand what we are saying over the internet we first have to move in a way where conceptual things have names starting with each 8 DTP it means that we have to move to put in our catalogues in our archives concept with URI that is a univoke resource identifier and machines would be able to access information behind these concepts through the protocol that is HTTP that is a standard protocol that internet uses when a machine access a concept through HTTP then the machine is able to get back some information about this concept or resource this information should be provided in a standard format a standard format that should be also machine readable of course the information the machine is getting back from this HTTP address would be expressed through relations between data at the bottom of the slide you can see a representation of this hypothetical and then physical structure of data you can see Otello and Desdemona both having a name starting with HTTP that is able to identify Univoclay over the internet and then between them a relation that is stating that Desdemona is a subject is part of is a character of Otello what is Otello Otello is an individual work what is Desdemona Desdemona is a character this is a way to represent the information or the phrase Desdemona is a character of the work Otello linked data is a stack of technologies but also a set of principles the first one states that you have to provide you should provide your data over the internet in an open license manner and when you are going to publish over the internet you should use a machine readable structured data possibly not using a proprietary format or badly using some standard formats if you do this you can reach four stars for lot principles the fifth level is all above plus the capability to link your data to others one data in order to provide to user the context for using and understanding the data you are providing so why to move Corago Corago context Corago model conceptual model toward the load perspective the first one was to try to open the knowledge because as you have seen we have some peculiarities that are belonging to the specific domain and we would like to be able to export our information to other domains or let this information be reusable by different stakeholders one way to do this is to make data linkable so we would like to let our archive being accessible from other systems other users and we would like to move toward semantic interoperability not only a simple reuse of a single piece of information available in our catalog the final objective would be try to explore the knowledge we have in Corago for now from different point of views and for different point of view we intend different kind of users the way to load may be long the first one is step we have to take is try to make that available on the web so we have to publish this data on the web in a standard format following those principles we have seen before we have to select a machine readable format that is RDF and we will see something about RDF later on and we have to make the semantics of the model explicit and the tool we will use are former ontologies all this process the adoption of the stack of technologies and the conceptual transformation of the model and the contents of Corago are suggested as a term that I'm not sure is the right one but we are just suggesting this as a transposition for us transposition means both to move contents and its conceptual model to a triple by based format such RDF let's see what this means first of RDF does anybody know what RDF is no RDF is resource description framework is language specification by V3C and in synthesis is a standard model for data interchange on the web and has the objective to let people represent their data in a independent way from their conceptual model different conceptual models so one language for all different types of resources over the internet is very flexible it is XML based and has a very basic structure this is the triple a triple is a subject an object and a predicate has a link so the predicate is the link between a subject and the object so the surgeon Giuseppe Verdi was born in 1813 could be represented by an URI representing Giuseppe Verdi a literal that is or date that is 1813 and a predicate that is was born in we have so to move the contents of Corago from a traditional table format you can imagine a relational table or even Excel spreadsheet is conceptually the same to a triple format subject predicate and object this means to transpose both the conceptual model and the data physically from one format a proprietary format to a standard open format that is RDF in the slide you see more or less the key concept and entities that are involved in this process on the left we have the table with columns each column has a label that more or less represents the contents of the column and then a lot of rows with values for each columns the table may be representing a single entity for instance authors works events each one with different types of attributes moving to this information this structure to an RDF graph means extract this structure and build a set of tribals where the entity is the center of the graph each property has to represent a different attribute and each object would be the single value this activity is normally called mapping mapping from a relational data structure to an RDF data structure let's see what this means physically here we have a table we have just one row that's it about responsibility in corago responsibly are authors actors names of people okay with different attributes that are code the family name the name the first name the date of birth that have death and so on we have to reach this other format that is RDF that is the base to publish corago has a linked open data novelty base how we do this first of all we decide to define to identify a type for our responsibly each entity in this case we have Giacomo Puccini has to be described labeled with a type in order to identify the kind of entity in this case we decide to adopt the class actor we will see what this could mean then then we select the code the unique identifier identifying code and from each column we are going to extract the predicate in this case it's a little bit complex but what is important just to fix the idea and then from each cell we are going to extract the value this is the way we are going to express in RDF that Giacomo Puccini identified by that strange code ending with 400 was born in 1858 the 22 of December transposition is a process is a list a set of activities you have to perform it is not one shot it is iterative and it involves a lot of components I think at least three of these components have to be taken in account the first one is the source relational database the second one is the target repository that is the triple store that will hold all the RDF graph we are going to produce and the third one is the ontologies but what is an ontology well I give you this definition that is a little bit broad but not very sharp an ontology is a formal naming and definition of the types the proper types and the relationships that entity or specific domain can have it is a formalization of a conceptual model and at least an ontology have to state to define three major entities that are classes for instance collections concepts types of objects attributes that are experts properties features characteristics of each class type and then relations that are the ways in which classes and individuals are related one to the other more or less this is the job that a formal ontology has to do in order to adopt an ontology to do the transposition to make the transposition of our models we have to follow some or choose some criteria I would suggest you three the first one is the coverage an ontology has to cover all the different entity types we have in the original model so for instance in Corago we have to at least be able to map authors events performances works libraries librettos so our ontology have to provide definition for all these things then the ontology have to provide definition at satisfactory granularity at least it should be similar to the original one to the original model one we can call this characteristic as expressiveness and the third one the ontology we select to do the transposition process should be able to support interoperability it means that if it would be a reference ontology a standard ontology a widely adopted ontology it would be better so what ontologies have we selected of course two reference ontologies that were already available I would say on the market the first one is the CDOC CRM CRM stands for conceptual reference model CDOC is a special interest group of the international council of museums and the CDOC CRM is now well 10 years ago ISO standard it has been defined realized done in order to provide good coverage of concept definitions properties in order to describe objects belonging to museums and in more in general object cultural object that are commonly available or shareable between museums the second ontology formal ontology we decided to adopt is FRBR or fiber OO where OO stands for object oriented this is tempted even effort to extend the CDOC CRM with concept and relationships that are able to describe bibliographic data this would lead to full integration between conceptual model useful for museum and a conceptual model that libraries would be able to adopt easily the idea the basic idea is to reach a common view for cultural heritage information and data so the transposition means that we have to move from the fiber entity relation model that professor showed before that is the base for the construction of the proprietary corago conceptual model to FRBR and CDOXURM linked open data model the two slides I've shown before were representing the whole models this one is just representing the alignment the mapping between the single table table BRANO or concept BRANO work to the I would say sense of classes and relationships that are required in order to express in RDF the information that is stored in a single table the single table BRANO so what I just want to show you is that the transposition process is going to insert a lot of complexities inside your data model let's imagine that through the process of transposition we are able now to publish data over the web following at least the first four or five linked data principles then we should be able to start to make people link and reuse our data so we should start to link information from Corago to other sources and let other knowledge bases link Corago's data first of all we should try to ask ourselves what to link I mean what content types are worth to be linked or would be provide better information or features to user whether if linked to different contents and when we selected these entities we have to choose also the link types we want to define in order to relate Corago identities with external entities this means more or less try to make an alignment between different knowledge bases and an alignment is made of two at least major activities that is a concept of alignment we have to make the two descriptive models coherent and aligned at least we have to identify what is what in Corago an author is and what a people is in the other knowledge bases we are going to link and then we have to make an alignment at an instance level for instance we have to be sure that our Giacomo Puccini is the same person that we are going to link in I would say another authority file we have also to consider during the linking process that we can make two kind of links incoming links and outgoing links for instance let's consider Corago Corago in the center we may have outgoing links linking to external authority file for instance we would like to find to link other form for the name Giacomo Puccini or Metastasio or we want to link other items for a specific manifestation we have listed in Corago but we may have also incoming link I mean other people using our data this could be an Excelna digital library or for instance Amazon Amazon could be interested in use our historic information about products I mean a CD of Othello a specific edition of Othello and provide our historical data to its users this is an example we have taken in account an external data set RDF data set that is linked geodata linked geodata is a data set about places and point of interest among these there are theater for instance so we were interested in find an alignment between places stated in Corago and linkage data cities that because we wanted to collect information about longitude and latitude for our places but linkage data has also information about theaters so we tried to find an alignment and then to define a link between theaters in Corago and theaters in linkage data the objective is to be able to provide to our user our Corago users information about the physical position of Corago historical places and theaters this kind of information are not currently available in Corago in its traditional format so this is new information that we are going to import in the Corago LOD knowledge base from external sources this is going to be done through alignment well let's suppose that we have reached a point where we have Corago as an RDF dataset we have imported some information from external sources through alignment and linking and we have other sources able to navigate Corago contents through linked data was this worth it and most of all how to evaluate this well we adopted once again the end user perspective so I think still now we are asking is this whole process useful is useful to let Corago falling in LOD and more particularly we have to ask is there is useful to define formally a conceptual model or we can stay stick to a proprietary model that is perfectly working for our domain is the structure of data we obtained with the adoption of formal ontology really usable and these new shape of data is really exploitable we can take leverage of this new organization of information and moreover the semantic web tools and linked data principles are really usable to our end user or to implement or to better implement their functional requirements that is the basic philosophy that FRBR introduced 20 years ago well we adopted a methodology I won't go through this slide in deep the only thing that I would say is that we found that we have to make some adjustment both from the technological point of view and also from the methodological point of view when we adopt these technologies and procedures and the major I would call it improvement we have to make is to introduce a sort of intermediate layer that enables more user-friendly navigation of the contents represented in RDF this means that we also have to introduce multi-layered architecture for our system you can see above these four at least four layers at the bottom we have the dataset RDF Corago a second layer a second tire is represented by the reference ontologies we have adopted for the dataset then we introduce what we call a search navigation layer and then we have the end user application the idea is that this intermediate level operates as a semantic lens it means that is able to focus only those information that are really interesting expressive to end users leaving the complexity of data representation made in RDF behind or even hidden because we may say that RDF is very useful in order to achieve machine-to-machine interoperability it is not so user friendly in order to present information to users and who is going to define to identify to shape these semantic lenses in our opinion this is the role of the domain expert is the domain expert that has to decide what and the user is going to see the way that a single resource an author a work a performance is going to be represented to the user and moreover not only a single user but different profiles of users we can have the I don't know the English for melomani the opera enthusiast that may be very interested in very detailed views of historical datas on the other side we can have simple Amazon user that just want to know the articulation of an opera in order to be able to understand whether if the CD is going to buy holds all the pieces you want to hear from the CD okay once again I want to stress that this is the role of the domain domain expert let's go for now domain expert so when using the dataset we are going we are suggesting that we should introduce some sort of intermediate abstraction layer and physically practically this has to provide usable views to user hide the complexity of the underlying data just a few moments to show this example here we have the representation in the diagram of the formal definition of the date of birth and date of death of a person this is CEDOXURM formalism in CEDOXURM you have people are called actor E39 is the code that represents the class each actor is a physical being so is related to two kind of events that are birth and death each event has a time span each time span has a date each date has a time application and then we have a letteral that identifies the value for this time appellation this is a really complex way to say the date of birth or of death of an actor let's imagine each one of these box means a triple so we have one step from actor to birth one triple from birth to time second triple from time span to date third triple then from dates to time appellation fourth triple then from time to letter the value we are interested in five triples if I'm going to provide to my end user five triples in order to understand that Giacomo Puccini was born in 18 20 no 58 58 I think I would have a really stressed and bored user so what can be done using an intermediate level an abstraction layer or what can the main expert do in order to facilitate the access the access to this information is to define a sort of navigation property that is what you see in the arc above that directly define what is the actor birth date so in just one triple we are going to assert this but be careful we are we have adopted a formalism we have to specify a full equivalence between our navigation properties the short one the short path and the long path there is a way to do this technically and we have to provide a definition of both the navigation property about the actor birth date and its relation with the complex chain you see in the middle in a formal ontology this means building a sort of semantic model just to structure and define the end user functionalities that is what we have done through what we call corago semantic model that is be careful completely and formally aligned with the reference ontology we have selected in order to do to perform the transposition so we are not changing the model we are just introducing a different level of abstraction in order to support end user functionalities well Andrea Avanti ok and we are trying to show you the results of all this stuff we may interact so I would like to shift to switch to italian because otherwise ok we present we the compar between two systems the old and new the traditional and the that is built using the version corag link open data and direi that we can do it from a point of view of the users to what are the difference now maybe the professor will show you the mask of the corago traditional that you have already seen in the slide previous and then see what changes in the new perspective Chrome version relational database abbiamo le tre maschere di ricerca opere eventi e libretti partiamo da quella delle opere e si può ricercare l'opera attraverso questi campi di ricerca quindi opere inteso nel senso work Gerusalemme liberata di questo autore è una tragedia quindi è un testo teatrale una Gerusalemme liberata di Franchi Paola questo non è datato ed è un ballo Gerusalemme liberata di Torquato Tasso poema epico Gerusalemme liberata è un'opera perché in Corago ci sono le opere ma ci sono anche le fonti quindi c'è anche il testo letterario del Tasso dal quale è ricavata per esempio questa opera che porta lo stesso titolo questa è la scheda di descrizione di un'opera lirica c'è un titolo un sottotitolo l'autore il librettista la prima rappresentazione il genere la lingua l'elenco completo dei personaggi le rappresentazioni note i libretti noti con questo quadratino che ci dice se è già disponibile la versione online completa in riproduzione poi c'è questa altra maschera che indica qual è la relazione che intercorre tra la Gerusalemme liberata di pallavicino e dice che ha un padre o una madre che è la Gerusalemme liberata di tasso se io sposto al centro di questa modalità di visualizzazione quindi ho messo al centro della maschera la Gerusalemme liberata ho tutte le opere ricavate dalla Gerusalemme liberata presente in archivio quindi questo è l'elenco di tutti i testi operistici che hanno utilizzato Gerusalemme liberata come testo di partenza quindi sono ricavate dalla Gerusalemme liberata quindi in opera in opera lirica nel repertorio operistico avete non so quanti non sono contati ma più o meno potrebbero essere un centinaio le opere liriche che hanno soggetto ricavato dalla Gerusalemme liberata e dal tasso con tutti i titoli che vedete Rinaldo Sofronia Armida e così via perché ciascun libretto ha preso una parte come soggetto una parte della Gerusalemme liberata ritornando alla scheda dell'opera anzi la navigazione sull'altra maschera quindi vado sulla rappresentazione e questa è la descrizione dell'evento che ho selezionato quindi l'opera la data di rappresentazione in quale stagione il compositore lo scenografo il costumista il programma della serata cioè l'opera con gli interpreti in questo caso non ci sono interpreti ma ci sono soltanto l'elenco dei personaggi perché non sono noti gli interpreti e oltre che l'opera c'è stato un ballo è l'unica informazione che è disponibile di questa particolare rappresentazione si conserva un libretto e questa è la scheda del libretto il giochino circolare che vi ho rappresentato quindi siamo partiti dall'opera siamo passati allo spettacolo dallo spettacolo all'oggetto documento all'oggetto documento libretto e così via e qui appunto si può consultare il libretto riprodotto dove c'è l'icona colorata si va alla consultazione dell'oggetto questo è un oggetto interno all'archivio o altrimenti si va su oggetti esterni su altri siti e si consulta secondo le modalità del sito nel quale è presente quella risorsa ok vediamo se non si raggiunge di qua giusto aspettate che faccio così facciamo prima ero abituato a Firenze ok in Coragolod abbiamo tentato la prospettiva google like abbiamo introdotto quindi una ricerca libera testuale ok ok e abbiamo introdotto la possibilità di filtrare per l'arco temporale e quindi ottenere oggetti coerenti che rientrassero in questo range questo vi faccio notare è una possibilità che è stata introdotta dal fatto che la definizione di data che abbiamo visto prima è univoca per tutti quindi tutti gli oggetti che hanno una data associata dovranno necessariamente averla rappresentata nello stesso modo e quindi io posso applicare lo stesso criterio di filtro sulla data per tutti gli oggetti ammesso che appunto abbiano un riferimento a una data e poi ho la possibilità di scegliere quali dei tre oggetti principali contenuti principali andare a estrarre vi faccio notare una cosa qui io posso selezionare quali dei tre non includere nel corago tradizionale invece dovevo scegliere da quale dei tre partire cioè dovevo decidere se cominciare a cercare i contenuti partendo dalle opere dagli eventi e dai libretti e ancora di più ciascun tipo di entità ha una sua forma dedicata con i suoi specifici attributi che possono non coincidere con quelli delle altre tipologie ok se io invece voglio cercare tutte le tipologie di entità quindi opere eventi dei libretti e cercare una stringa indipendentemente da dove questa sia contenuta nella descrizione in cui dove compare la descrizione di questi oggetti devo utilizzare un criterio che è la generalizzazione cioè quindi sostanzialmente ricondurre trattare tutti questi oggetti come se fossero simili e quale sarà il risultato vediamolo è un po' meno efficace di google efficiente scusate il risultato è che avrò un elenco di entità che sono tutte eterogene che potenzialmente sono eterogene se io per esempio scelgo come criterio di ordinamento l'alfabetico sul risultato vedo che ho tipi di entità miste cioè sostanzialmente il sistema non ha fatto caso a quale fosse il diverso modello descrittivo di ciascuna entità è andato a cercare il full text Gerusalemme liberata all'interno delle loro descrizioni la maschera di per sé mi riporta il risultato quindi in questo caso l'evento Andromeda adesso io torno alla versione precedente così facciamo l'equivalente in questo caso la nostra Gerusalemme liberata è il torquato tasso mi dà una serie di informazioni di base questo lo faceva perfettamente anche il Corago tradizionale magari riflettiamo la ricerca se siete d'accordo così lo facciamo in parallelo ok quindi mi dà informazione circa l'autore mi dà informazione relativa alla data in più ovviamente riferimento alla tipologia di risultato che ho ottenuto perché in Corago sono tutte opere non ci sono eventi non ci sono libretti e poi ho un insieme di attributi che mi servono per capire banalmente che cos'è l'opera piuttosto che l'evento piuttosto che il libretto che il sistema mi propone stessa cosa succedeva qui ma vedete che la descrizione è fissa mentre invece se guardiamo quali sono gli attributi nella nuova versione vediamo che questi variano in funzione della tipologia di oggetto questi attributi sono stati selezionati tra i tantissimi che sono dentro la descrizione degli oggetti di Corago come quelli che meglio aiutano l'utente a disambiguare a capire la singola la natura del singolo risultato e le caratteristiche salienti chiamiamole identitarie del singolo risultato la definizione di quali siano questi attributi viene fatta dentro il livello intermedio semantico di cui abbiamo parlato prima che sta sopra la struttura dei dati in formato rdf in questo modo siamo in grado di suggerire all'utente solo le informazioni che gli servono in questo momento in più gli diamo un'altra informazione diciamo che questo è il sentiero di Pollicino cioè dice sostanzialmente all'utente come mai il sistema gli sta proponendo questo risultato in questo caso gli sto dicendo guarda che ho trovato Gerusalemme liberata nel titolo piuttosto che nell'evento ho trovato che un'opera rappresentata era la Gerusalemme liberata andiamo avanti troviamo un libretto ho trovato Gerusalemme liberata all'interno dell'intestazione di sezione del libretto ok ehm pardon andiamo a vedere la scheda a questo punto la scheda oltre ad essere più lenta a caricarsi molto più lenta a caricarsi è tutta colpa delle triple l'ho detto che complicano la vita prima di tutto complicano la vita poi forse aiutano a fare qualcosa in più allora innanzitutto notate una cosa qui in questo nuovo mondo ci sono tanti più elementi linkabili ok perché ciascuno di questi elementi è un oggetto immaginatevi che questa sia la presentazione di una tripla la Gerusalemme liberata è il subject sotto vedete l'URI identificativo univoco della risorsa ok la relazione che la lega a torquato tasso quindi soggetto predicato oggetto quindi posso andare a cliccare su torquato tasso e avrò le informazioni salienti su torquato tasso ok ora in questo caso il sistema le fa vedere per uso e consumo anche vicino ma posso tranquillamente navigare tutte le le proprietà poi mi presenta un simpatico tabettino qua sotto e in mezzo a questo tabettino questa nuvola di questo grafo di relazioni che sono esattamente le stesse relazioni che avete visto nella rappresentazione fatta vedere prima dal professore e quindi troviamo tutte le opere per cui la nostra Gerusalemme liberata è stata fonte e cliccandoci sopra io vado a caricarmi ancora una volta i dati salienti di quella singola entità facendo doppio clic navigo ed esplodo e vedo le relazioni con altre entità e quindi potenzialmente posso andare avanti a navigare il grafo iterativamente tripla dopo tripla ok questa è una forma di rappresentazione ma e poi smetto di tadiarvi e andiamo alle conclusioni direi sì lo so che lei non apprezza ma io sì ognuno ha i suoi gusti attenzione il livello descrittivo della scheda vedete che cambia il sistema a priori non conosce le informazioni che ha sotto nel grafo il sistema semplicemente si limita a chiedere al nostro ipotesi rdf dammi tutte le informazioni che hai riguardo a questa URI gli arrivano su un insieme di triple e la lente semantica costituita dall'ontologia dal strato intermedio di navigazione che abbiamo definito prima detto prima di cui abbiamo detto prima fa sì che il sistema in modo totalmente agnostico produca questa rappresentazione che è quindi completamente dinamica non esiste nulla di scolpito nel codice come si dice in termini ingegneristici il sistema si limita a leggere l'ontologia le definizioni e i dati che gli arrivano e crea questa rappresentazione che contrariamente a quello che sarebbe se gli presentassi le rdf è un pochino più simile a quella tradizionale ma attenzione sotto questa c'è le rdf sotto quella tradizionale dove l'ho persa c'è una scheda php per chi conosce la tecnologia che consuma un database relazionale nessuno sarebbe in grado di costruire una interoperabilità machine to machine sulla base di questa struttura dati di qua sia il livello che io presento all'utente sia il livello basato sulle ontologie di riferimento è disponibile in formato rdf quindi amazon google l'ha già fatto passa di lì spazzola tutto indicizza e porta in casa il dato di qua non può che fare operazioni di estrazione banalmente basata sull'analisi del test quello che vuoi farvi vedere è che poi il sistema si costruisce esattamente come succede per il sistema tradizionale le viste specifiche relative in questo caso i quadriscenici alla struttura dell'opera le rappresentazioni quindi la cronologia i riferimenti ai libretti e le relazioni che abbiamo visto già prima quindi quello che voglio far vedere è che da una parte si compie molta fatica per raggiungere un'equivalenza funzionale dal punto di vista delle funzioni utenti dall'altra però si ha sotto una potenzialità che non vi nascondo ad oggi dobbiamo ancora cominciare ad esplorare ok grazie a tutti grazie a tutti